Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Grande, grande. Parti tu o parto io? Parto io. Allora, tre pregi sono sicuramente avere un cuore puro, in linea di massima, l'essere intelligente e avere un bel fisico, cioè come costituzione, cioè essere ben dotato. Io aggiungerei che sei una persona molto scura di sé. Sì, sicuramente. Ah sì, no. Non credo, non credo. È autoconsigliato. Bevetela e basta. Fatevi solo la coca. No. Cola. Fatevi solo coca! Neanche. No, neanche. Ma... senti, cocaesci, o coca, ormai tutti ti conoscono come coca. C'è qualcuno che ti chiama coca anche nel tuo giro di amici? Se ne hai, perché... Mary. Mary ha iniziato a chiamarmi coca. Matematica. Ok, per questo... Matematica, sì, sì, sì. Bene. Grazie, Tulio. Devo presentarmi, non ho ben capito, sì? Sì, sì, presentati. Allora, mi chiamo Mari Vittoria, ho 21 anni, faccio anche l'università, studio Scienze e Tecnologie della Comunicazione, qui all'Università di Ferrara. Bala merda. Oltre che a studiare lavoro... Grazie, Rast, grazie, fix. Vediamo, aspetta, lo apro da Safari. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Rimoldigno! Tu, Martina, lo conosci, Rimoldigno? Hai mai visto qualche suo video? No. Neanche Violetto? Neanche Violetto! Sai, però, la cosa di Tiktoker top, perché io, per esempio... Oh, scusa, ok, ce la dovrei aver fatta, forse. Ah, no, così in verticale, impostazioni... Come si ruota? Veramente? Un po'. Va bene. Complimenti. Vabbè, dai, te la lavo io la testa, facciamo un lavaggio romantico. No! No! Ma lo vuoi capire? Tu vuoi proprio rimanere così? Certo, assolutamente. Eh, quando era giovane, mamma mia, che bella donna, bella ragazza qua. Bella, bella. Sono mega photoshoppata in questa foto. Bella, bella. Oh, è arrivato il cameriere. Scusami, ma siamo in Calabria. Sì? Piacere nostro, piacere nostro. Per me, Stefano. Siete davvero simpatici. Grazie. Grazie mille, grazie mille davvero. Ciao, Stefano, buonanotte. Ciao, Stefano, buonanotte a tutti. Vai, certo. Dici una cosa. Certo. Vai a letto! Vai a letto! Ciao, ragazzi. Ciao. Un bacione. Ciao. Ciao, prossimo. Ciao. Ciao, Stefano. Sì, ma tu dimmi, vado anch'io. Sì, sì, adesso è mezzanotte, vado a fare il red. Cazzo, eccolo qua. Ma non c'è una hill con cock. Ma pensate a cock. Mamma mia, cock io mi ricordo... Mamma mia. Cock. Veramente è... Minchia, ho visto tutti sti video. Mamma mia, che figa. Punto per studiare. Ah, ok. Giusto, giusto. Beh, Denise... È davvero una vita molto interessante, caspita. No, scherzo, è uguale alle altre. Però vabbè... Ma... Ok? Che cazzo dice? Non so davvero quale domanda... Non so davvero quale domanda fare. Vabbè, parla un po' tu. Dimmi cosa fai tu nel tempo libero, i tuoi hobby. Io... L'hanno bannato, raga. Niente. L'hanno bannato. No, mi sa raga che l'hanno bannato. Mi è uscito fuori... No no l'hanno bannato L'ho uscito fuori proprio che mi è bannato dalla live Mi spiace che l'hanno bannato No Si l'hanno bannato Cioè è una cosa super che ci tiene lui come l'orologio Cioè lì è stato super Cioè è incazzato veramente di brutto Ovvio magari con la tromba non si incazza così tanto E qualche volta si incazza di più così Però Quello che succede io registro e poi pubblico Ecco quindi Quello E invece quando suoni tipo alle 3 di notte Vi è mai capitato di non farlo in realtà alle 3 di notte Ma farlo tipo il pomeriggio No perché ti dico Non sono un vero uomo alfa Siamo pronti Grazie Non mi ordinare la carne Non non Tutto 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 Cottura media grazie Perfetto Sì Ah Allora Stacca qua Una settimana No Prima mi hai detto Tu hai detto che fa mi vado a mangiare Tutto qua Io non ho detto Io ho detto che facciamo metà No no Ma adesso con ce l'entrato Facciamo metà Ma hai sentito No non l'hai detto No ma sembra la follia Non l'hai detto No Ma questo è un uomo al tre È pesato? Uno No Esatto Vedi che dici cazzate Lo siamo sintonizzati Tu hai detto Ho fatto tutto io Io lo preoccupare Ho già quello che vuoi Perché la connessione va e viene Non ho detto si sbora David Che esordio è Si sbora Ho chiesto come va La tua vacanza Ma che cazzo ne so Ogni tanto te ne hai Ah beh Una bomba La vacanza va una bomba No la vacanza sessuale Come va Però Allora qui è figo Qual è la vacanza sessuale? Io sto qui per lavorare Ti chiamo i gemelle? Vai vediamo Ti chiamo i gemelle Poi adesso devo fare Io penso che fossi I gesti di Breaking Bad Non ho guardato Breaking Bad Però mi è piaciuta la cheat Perché mi sembra acculturata Come citazione Vabbè Neanche se siamo parlati Di una cosa di 50 anni fa No 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 Ma noi abbiamo età diverse Coc Tu hai Quanti? 32? 35? Quanti anni hai? Simone Eh Sono nei miei 20 Sei nei tuoi 20? Sì sono ancora nei 20's No prego Prego Mariona Io parlo Adesso non mi fermate parlo No sì C'è il mio essere egoista Però Hai finito il turno Basta Scherzo Scherzone Hai riferito un po' Le circostanze Nel senso che sono una persona Che pensa molto a sé Quindi se voglio arrivare A una cosa Cioè Non me ne frega niente Di chi ho In quel senso Non è il senso Che se qualcuno Mi muore Mi dicevo sempre Odino Pompinaro Non dicevo Le bestemme Perché lo potevano Nel Buddha Tutti i D Di diverse categorie Non gli insultavo Ma sempre Dico Odino Pompinaro Immaginiamo Odino Non so se conosci Odino Nella sua rappresentazione Quella con le cornazze Grazie mille Molto gentile Mamma mia Ma come rispondono Sulle 23.07 Abbiamo un po' Ribaltato i programmi Della Della diretta Leggi messaggio di Coq Mi ha scritto Coq Cosa mi ha scritto Coq Vediamo Ciao Ciao Coq Scusami Scusami il ritardo Ci conosciamo già Quindi Sai che mi chiamo Coq Quindi Ciao Ciao Un appuntamento al buio No 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 Ci conosciamo Ci siamo già sentiti Non interrompere il riflusso Per favore Scusi Non rispetto Nella massa ragazzi Blastate me per favore Siete dei pezzi di merda Vaffanculo Teste di cazzo Così Così Ma non è russo Niente Non lo so Forse adesso Si concentrano su di me E mi blastano Lasciamo perdeggiati Vai Spaccatemi Vabbè Questa Inutile Vabbè Ho provato da un aiuto Ma che aiuto è? Il peggior aiuto Che potevi dare Chiaramente Ti farò Complimenti Comunque Comunque